In Corso Lecce, direzione Pellerina, quindi quartiere Parella sotto quartiere Campidoglio, potete trovare una villa in stile neogotico, neoclettico, una delle poche che sono rimaste a Torino, conosciuta come Villa Arduino oppure Palazzotto Arduino, perché questo è il vero nome, è stata costruita dal suo proprietario, il Cavaliere Arduino, in uno dei suoi lotti. Poi lui ha fatto costruire anche altre case, perché giustamente era il suo lavoro, però il punto è questo, c'è una leggenda metropolitana che dice che quella casa lì, insomma quella Villa, è appartenuta all'attore Macario, l'attore comico che faceva anche i film con Totò, Che era torinese, che tra l'altro lui amava molto Torino, però lui lì non ci ha mai abitato e sono una leggenda metropolitana, che poi c'è da dire che lui in realtà viveva in via Santa Teresa numero 10, praticamente proprio sopra al teatro Bomboniera, che praticamente lui aveva fatto costruire, perché lui sotto praticamente andava a fare i suoi spettacoli e poi andava a abitare sopra. Poi c'è un'altra diceria che lui abitava pure in un'altra villa, però in realtà non è stato mai documentato. Quindi questa era una cosa importante da potervi raccontare in modo che questa leggenda metropolitana possa finire, perché purtroppo, lo so che magari a certe persone può piacere l'idea dire che in quella villa abitava Macario, ma è una falsità. Quindi io adesso con questo video cerco di dire la verità e fare in modo che voi lo sappiate. Infatti questa cosa che sto dicendo è documentata e io adesso vi ho fatto questo video. Spero che questa cosa che io vi ho detto vi possa piacere, perché io do anche informazioni. non faccio solo, come si può dire, solo far vedere la città e sono anche belle conoscere certe determinate chicche che riguardano Torino. Io adesso ho finito con questo video e ci vediamo nei prossimi. Ciao a tutti!